prego diamo il benvenuto al giudice Luigi Nerilli giudice Luigi Nerilli razze italiane le razze che vediamo oggi sono il cane corso il mastino napoletano il lagotto romagnolo il bolognese e il maltese nel pre-ring possono prepararsi le coppie allora vediamo in movimento singolarmente le differenti razze e ora il turno dopo il cane corso il mastino napoletano il lagotto romagnolo particolarmente apprezzato nella ricerca del prezioso tubero del tartufo il bolognese e concludiamo la sfilata delle razze italiane con il maltese dopo le razze italiane vedremo sfilare le coppie poi i gruppi di allevamento e poi partiremo con i quattro raggruppamenti prima del best in show finale terzo posto per il lagotto romagnolo piazza d'onore delle razze italiane per il mastino napoletano vince il raggruppamento razze italiane giornata di domenica basti a umbra 2013 il maltese il maltese le coppie stanno per entrare saranno giudicate da pier giovanni staderini coppie che saranno giudicate da pier giovanni staderini 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 staderini